Neve, gelo, piogge. In queste ultime ore hanno interessato la nostra regione, dalle cime più alte fino alle città culinari alle quote più basse. Diverse le scuole chiuse. Oggi neve a Chieti, dove il primo cittadino ha chiuso le scuole. Ma qui a fioccare oltre alla neve c'è anche un falso profilo Facebook del sindaco, per cui il primo cittadino è molto arrabbiato e dice di voler sporgere denuncia. Ma andiamo per ordine. Da ieri sera i mezzi spargisale viaggiavano per la città, così come i mezzi spazzaneve, sia nelle vie principali del servizio pubblico di trasporto, così come nelle vie principali del centro. La verità è questa, è che io ieri sera, ai primi fiocchi, con un'allerta meteo diramata dalla protezione civile e dal centro funzionale regionale, ho ritenuto di dover adottare una ordinanza perché questa mattina per davvero non sappiamo cosa avremmo trovato. Sinceramente non l'avrei adottata. Se non ci fosse questo clima da attenzione spasmodica alle previsioni meteo, è la necessità da parte di un amministratore ormai di adottare degli atti di amministrazione difensiva. Cioè oggi noi siamo costretti ad adottare degli atti per evitare che ci siano le sommosse inutili sui social piuttosto che sui giornali. Ci sono altre precauzioni per esempio per quanto riguarda il cimiterio o quant'altro? Sì, nel cimiterio ovviamente abbiamo fatto la disposizione della chiusura perché lì non è possibile entrare con i mezzi ovunque, bisogna spalare in molti posti a mano. E poi c'è una spiacevole situazione, un profilo fake che gira su Facebook di Umberto Di Premio. No, farò certamente una denuncia. Sperando che la magistratura una volta tanto, invece che archiviare le mie denunce anche quando ci sono le minacce di morte nei miei confronti, provi a fare un'azione per individuare chi ne è stato responsabile. In questo caso ci troviamo di fronte a delle offese rivolte genericamente a tutti gli studenti. E quindi io intendo denunciare questa circostanza alla magistratura e spero che possano individuare chi utilizza, tra l'altro, strumenti che anche sotto il profilo penale vengono valorizzati in termini di punibilità, cioè la diffusione delle notizie attraverso i social media. E io spero che davvero si possa individuare chi si diverte ad essere un incivile dietro una tastiera di un computer. Grazie.